Aiuto! Aiuto! Luigi! Cea! Trappola! Benjamin! Geronimo! Luigi! Benjamin! Luigi! Trappola! Benjamin! Allora, Nib, hai qualche videogioco? No. Ma è magari uno skateboard. Una bicicletta? No. Ma possiamo giocare con la mia scatola di ossa. Ossa? Già. Scommetto che non sei capace di collegare la scapola al perone. Ma che cosa ne dici di guardare un po' la tv? Noi non abbiamo la tv. Scusa, torno subito. Gregor! Vieni con me. Aspettatemi! Salve signore, sono il loro cugino. Già, il loro cugino più piccolo. Sei sicuro che... Sicuro che me la caverò da solo? Garantito, mamma. Mamma? Aspetta un attimo. Quanti anni hai, piccolo? Eh... Vediamo. Uno, due, sei, quattro... Sì, dieci! Imbraglione! Non ne ho dieci! E invece sì che li ho! Uffa! Non posso mai andare in nessun posto divertente! Non è giusto, non è giusto, non è giusto! Se pensi di convincermi facendo i capricci, sappi che... Uffa! D'accordo, d'accordo. Puoi entrare. Wow! Questo aggeggio suona alla stragrande, ragazzi. Sì! Ha funzionato! Ottimo! Ora speriamo solo che Von Volt non abbia smesso di provare a cercarci. Nel frattempo... Scappiamo! Ciao! Ciao!